10.500 cavalli mi raccomando occhio oggi abbiamo più pressione delle turbine quindi avremo motori più prestanti e con un sound veramente accattivante agli amanti del sound con orecchie delle aperte ma proteggete le orecchie dei vostri bambini perchè questi motori fanno veramente un sound potente fa la manetta e fa il coro 8 e mezzo con orecchie questi motori li vengono a tirare una marcia che risalde di 168 km per l'anno 168 km per l'anno passate capito tutto è pronto godetevi lo spettacolo di Alessandro Rocco con 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 un giro di gas arriva Alessandro Rocco qui ci sono sciolte le introscuzioni dei bambini Alberto arriva